Ecco tu che si era imparato l'italiano, che parla in italiano. Ah, questa non la conosco. Non la conosci? No. Allora, si era imparato a parlare l'italiano e non sapeva le cose come si dicono, no? Aveva un luerto che era un cristiano ricco e la mamma quando sentiva una cosa scappava aveva un cristiano che si fa a spiegare e mi ha detto mamma prendimi e prendimi e prendimi e li mutandò e mi ha chiamato Torrenato con il bici cebola. Torrenato mio figlio mi ha detto con i pigli e li mutandò, ci sono i garzonetti! e mi ha chiamato i pantaloni e li mutandò. Mamma prendimi i pantaloni! Madonna mia, ma Torrenato ogni minuto ogni minuto mi chiamano, quanto bici ce vuoi? Torrenato mio ci sono i pantaloni, li mutandò, li mutandò, li mutandò. e ha detto mamma prendimi il cravatto e ha detto mamma prendimi il cravatto. Oh figlio mia, ogni minuto questo Torrenato mi chiamano, quanto bici ce vuole. Torrenato mio ci vede il cravatto, la scolla, la scolla e te. Ma grazie di Dio si è andato a mangiare. ho detto mamma sali sulla banca, oh figlio mia ma io di questa età posso chiamare sulla banca non vedo che sono tu figli minaranti, come mi chiamano? mamma ho detto sali sulla banca, figlio mia come voglio fare sono tu figli minaranti, ho detto sali sulla banca, quanto mi succevo le torrenato, torrenato mia che il figlio mi vuole chiamare sulla banca, ma è possibile mai, figli minaranti, non il figlio mi vuole portare sali sulla banca, non il figlio mi vuole chiamare sulla banca.